Consiglio al presidente Lotito che in questo momento sta probabilmente cercando di dirimere la matassa Sarri, tenerlo o non tenerlo? Quando un allenatore forse non è più ben gradito ai suoi giocatori, che si fa? Dunque, signora, tanto io non posso dare consigli a Lotito. Di lungo corso come è? Sì, molto di lungo corso, questo è vero, però non do mai consigli. Poi io stimo molto Sarri, è arrivato a un passo dal Milan, quindi non posso dare consigli, ma lo terrei Sarri. Senta, c'è chi accosta Palladino la Lazio? Palladino è un grande allenatore e quando stai con una grande persona, di qualunque senso sia, c'è il rischio che te la portino via. Speriamo di no, è in scadenza il 30 giugno. Buona giornata. Ma sta meglio Forza Italia o il Mozart? Scusi, mi sembra che sia stato un bellissimo weekend. Abbiamo vinto tutti e due, perché Forza Italia ha avuto un grande risultato, secondo partito nell'alleanza di centrodestra, abbiamo vinto all'Aquila e abbiamo vinto a Genova, quindi va bene. La sforbiciata è pazzesca. Però il centro del centrodestra, c'è voglia di questo centro di centrodestra in Italia, non solo in Abruzzo. E c'è bisogno? È sempre quello che ha pensato Silvio Berlusconi, così è nata Forza Italia e così andrà avanti Forza Italia. Adesso però ho parlato un po' troppo, signora. Buongiorno. Silvio Berlusconi